Stamattina migliaia di operatori del settore oreca, bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie o che somministrano bevande ed alimenti in tutta Italia hanno virtualmente consegnato le chiavi dei loro locali ai scindaci delle loro città. Tutto è partito alcuni giorni fa da commenti e considerazioni dei gestori sulla loro condizione e da lì in poi è stato un fiume in piena di adesioni. Ieri sera al Flash Mob organizzato a livello nazionale con l'accensione delle insegne e dei locali ed una tavola imbandita hanno aderito quasi 200.000 persone. Da nord a sud lo testimoniano le tante foto scattate e pubblicate con l'hashtag Risorgiamo Italia. E questa mattina consegna di una chiave con bigliettino da visita al sindaco in tantissime città anche con connotazioni eloquenti per dire che il settore sta ormai morendo. Chiaramente non ci aspettavamo un'attività che ci ha portato ad avere tutta questa aggregazione che è stata una cosa veramente meravigliosa. Siamo stati fino alle due di notte anche per capire cosa avevamo fatto. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo capito che abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Non debba accadere che oltre il danno enorme ci sia una grande beffa perché quello che chiediamo tutti qui chiacchierando e confrontandoci tutti i giorni per i motivi che sappiamo imprenditoriali quindi economici che diventano anche un disagio sociale non deve essere assolutamente un ritardo. Noi non possiamo più aspettare, abbiamo aspettato fin troppo. Quindi ad oggi ci aspettiamo che nell'arco di qualche ora, qualche giorno arrivino i risultati, i fatti e non più le promesse. Nelle mani di serie dell'assessore Luca Relli, una delegazione di 15 operatori in rappresentanza degli operatori. Il corteo con oltre un centinaio di presenze non è stato autorizzato dalla prefettura per ovvie ragioni di sicurezza. Sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine sono state consegnate 117 chiavi, 47 di bar e pasticceria, 60 ristoratori e una decina di altri operatori tra cui due spiagge e bed and breakfast. Questo evento è per richiamare fortemente l'attenzione di tutti coloro che hanno responsabilità. L'altro elemento che emerge e che è un problema che sentiamo anche noi come sindaci e proprio oggi ho un incontro con i colleghi della regione Marche, sono le certezze. Cioè avere le certezze sulle tempistiche, avere le certezze sulle regole in cui operare. E' importante per chi deve ripartire, è importante per noi che dobbiamo anche aiutare e creare le condizioni anche con delle scelte a carattere locale e amministrativo. Penso soltanto a quello che riguarda la superficie e il suolo pubblico. Se gli spazi devono essere aumentati per consentire, come giusto che sia, le sicurezze, è importante che noi abbiamo questi elementi. Proprio per questo stiamo anche facendo un lavoro a livello locale, pensando a dei protocolli proprio per rendere più sicura e tranquilla la gente in modo tale che possano tutti ripartire e fare anche quella quotidianità e fare quelle attività con serenità e gustarsi anche quella che sarà la ripresa. Ne ha bisogno la gente, ne ha bisogno il Paese nelle sue articolazioni.